C'è insegnato... Non la stazione, Gesù canta per la testa voce. È l'indifferenza, l'ironia, la bruttà del mondo che gli fanno dolere l'anima e stanziare il cuore, quel cuore che trabocca d'amore per i nostri. Siamo deboli, Signore. 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 Signore, Signore. Signore, Signore. Signore, Signore. Signore, Signore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.